Facciamo partire il primo video della videocamera, state attenti 3, 2, 1, partito No! Ti lascio Ti lascio, ci sono Poverino, poverino sconvolto adesso Ehi là, com'è andata? Buongiorno E' troppo emozionato, non puoi scherciare stop Sì, esatto E' verrà a finire la batteria E' andata? Bene Saluta Full HD Saluta Ciao Che bello Hai salutato? Si, sta salutando Stai salutando Stai salutando Guardati pari tambu Più grossi? No, non li faccio Gli altri sono morti Andiamo